Il fin del mondo Il fin del mondo Dopo 14 anni che ha perso di non la vedo La vedo come una signora gallega di 80 anni Supongo che le galleghe da 80 anni Era come mio madre Se si è per riusci o per llorar una vez dijeron vamos a encender el fuego como creen que se den cuenta que estamos comiendo no estábamos comiendo nada no estábamos